Campionato di seconda categoria, girone F, quinta giornata. A Livio Luzzi di Camerino si affrontano il Camerino di Mister Micarelli e l'Urbi Salvia di Matteo Siroti. La gara inizia con nove minuti di ritardo per un problema sulle linee, non c'erano addirittura neanche le bandierine laterali. Dirigenti che si danno da fare per sistemare il campo e per evitare la sconfitta a tavolino. Il match inizia con queste formazioni. Il Camerino, Giri, Michiorri, Domenici, Onesini, Bevilacqua, Gentilucci, Gabrielli, Rossi, Cesari, Remigi e Palazzi. L'Urbi Salvia, Caprioli, Marzoli, Buccolini, Sbrancia, Martinelli, Martorelli, Passarini, Ciamarra, Morante, Boe e Contigiani. L'arbitro dell'incontro è il signor Mastrocola della sezione di Macerata. Si gioca sotto una pioggia battente e il campo in alcune zone in discrete condizioni all'inizio, poi nel finale la situazione non sarà poi così bella e la difficoltà delle manovre di gioco sicuramente ne risentirà e risentirà anche lo spettacolo. Questa è la prima azione importante del Camerino con pallone perso al centrocampo, recuperato dall'attaccante il numero 9 Cesari. Il portiere dell'Urbisaglia esce, Palazzi con il sinistro, prova il tiraccio, pallone che colpisce la traversa e ancora Cesari in sforbiciata di sinistro coglie il montante pieno. L'azione la possiamo rivedere a rallenti, il rilancio del portiere ed è Palazzi ad intuire che la palla potrebbe andare altissima, scende velocemente, colpisce la traversa, portiere battuto, difensori disorientati, arriva in scivolata, Cesari e colpisce il montante. Passiamo ad un'altra azione ancora una volta pericolosa per quanto riguarda il Camerino, è il trentasesimo, c'è un calcio di punizione di Gabrielli, pallone in aria, svirgola il difensore, arriva con il sinistro, Palazzi e colpisce il palo pieno, poi Rossi manca l'appuntamento con il gol, lo vediamo a rallenti, ecco il colpo di sinistro, anticipa il portiere in uscita, la palla colpisce il palo, arriva Rossi che prova anche lui con il sinistro ma scivola sul terreno bagnato e non riesce con il tapin a chiudere il tiro e il gol. Inizia la ripresa con un ennesimo giallo, fischio d'inizio ma tutto bisogna fermare perché in campo c'è ancora un dirigente che continua a segnare le righe, vedete che il portiere Giri lo invita ad uscire, l'arbitro Mastocola, gli viene un po' da ridere e dice ma noi dobbiamo giocare e così inizia la ripresa con il secondo fischio, intanto perde ancora un po' di tempo il dirigente e alla fine però decide di uscire e dunque il giallo risolto, il calcio d'inizio battuto dall'Urbisaia, pallone subito però sprecato perché bevi l'acqua a recuperare, Rossi di primo, di destro lancia Remigi che viene pescato in fuorigioco ma il pubblico contesta, probabilmente la posizione era regolare e a questo punto il guardialine si infuria e viene mandato direttamente negli spogliatoi. Ecco l'uscita fra le proteste del guardialine che fra l'altro manda a quel paese sicuramente il giudice di gara che ha espulso anche due dirigenti dell'Urbisaia, uno il primo tempo, uno nella ripresa. Ecco però il momento del gol, tutto nasce da rimessa laterale dell'Urbisaia, rinviene con il tacco, vedete Remigi, pallone al centro per Cesari che non riesce a colpire il pallone, arriva Rossi, supera due uomini, limite dell'aria, cross con il destro, pallone perfetto, stacco di testa di Remigi e il gol del vantaggio era al quarto minuto della ripresa, un gol decisamente bello nella sua costruzione, tutto parte da questo colpo di tacco, colpo di tacco di destro per l'attaccante Cesari che però viene anticipato, capisce tutto Rossi, supera due uomini, arriva al limite con il destro morbido, guardate che pallone delizioso e Remigi non può far altro che colpire magnificamente di destro e battere Caproli per l'1-0, sarà anche il gol decisivo, questo gol molto importante per il Camerino, alla fine poi ci sarà un boato negli spogliatoi. Passiamo dopo il gol ad un'altra azione, vedete i festeggiamenti che continuano, sono durati molto, ci tenevano tanto, c'è una punizione per il Camerino, la batte Gentilucci, pallone che spiove in aria, guardate che lancio lungo, arriva con il destro di prima intenzione Palazzi e ancora il palo dice no ed è palo ancora, due pali e una traversa, due traversa e palo per Palazzi, l'avevamo vista prima, un palo era stato colpito da Cesari, dunque un Camerino che domina il match, ma seguiamo quest'azione dell'Urbisaia, una delle poche a dire la verità, pallone in aria con il destro a giro, l'attaccante dell'Urbisaia non riesce ad impensierire più di tanto il portiere del Camerino Giri, Morante era l'autore del tiro. Qui c'è una punizione, è stato Gentilucci, anzi no, Onesini a battere da lontanissimo, il portiere Caproli si rifugia in calcio d'angolo, dunque il Camerino conquista tre punti pesantissimi, su un campo altrettanto pesante, batte per 1-0 l'Urbisaia e in classifica sale a 8 punti. Questa vittoria, fra l'altro, mister Micarelli la dedicherà al presidente Quadraroli, che era assente per l'improvvisa scomparsa di Sergio Natalini, suo cugino e super tifoso del Camerino.